Ciao a tutti amici di Evriai, un salutone dal Green Squad Builder di due squadre che hanno fatto catterve di gol nei gironi dei mondiali, ovviamente stiamo parlando di Francia ed Olanda, modulo 4-2-3-1 in porta il francese stavo per dire, l'olandese Worm, bello bagato come piace a noi i due difensori centrali entrambi francesi sono Varane e Cocheny, entrambi veloci, entrambi con un buon colpo di testa entrambi con buone statistiche difensive, soprattutto Cocheny sui colpi di testa nei calci d'angolo Cidadrin dentro di brutto i due terzini invece sono olandesi, abbiamo Willems a sinistra con un suo bello 81 di velocità e soprattutto Van Ryn a destra con il suo 86, se non sbaglio, esatto, 86 di velocità allora, 4 International Man of the Match in questa rosa, ancora da metterle in campo i due centrali di centrocampo difensivi sono Pogba e il primo International Man of the Match Matuidi tanta roba, entrambi due muri, giocatori veloci con i piedi buoni perché vediamo velocità Matuidi 82, Pogba 75, un buon tiro 72 Matuidi 78 Pogba passaggi 83, 80 ragazzi, abbiamo un buon dribbling 81 su entrambi difesa 87 per Matuidi International Man of the Match e 75 per Pogba e poi colpo di testa 82 per entrambi il nostro COC è ovviamente Snyder, l'olandese con i piedi fattati per lui abbiamo un bel 87 di passaggio ragazzi oltre ad avere anche lui un buonissimo tiro altri due International Man of the Match, questa volta olandesi a sinistra Depay e a destra Robben e avete già visto la punta quale sarà parliamo comunque degli esterni, veloci, buon tiro, grande tecnica, buon passaggio ragazzi quindi tanta qualità e davanti ovviamente Karim Benzema signori, signori, che squadrone, che squadrone, che squadrone Karim Benzema 86 velocità, 88 tiro ragazzi 79 su un coppo di testa che comunque va bene ma poi Depay veramente velocissimo con un tiro che è una cosa incredibile Robben dall'altra parte col suo tiro a giro di sinistro micidiale guardiamoci qualche clip intanto abbiamo detto allora una rosa veloce, molto ben bilanciata in ogni zona del campo ha giocatori veramente ottimi due centrocampisti centrali che coprono bene la difesa un COC con dei passaggi stupendi due ali mostruose e un attaccante che è veramente un colosso ragazzi questa è una squadra che se potete farvela fidatevi che è tanta roba come sempre lasciate un bel mi piace mi raccomando ragazzi un commento e noi ci vediamo al prossimo video come sempre stay barba, stay qualità ciao belli